Ciao ragazzi e bentrovati all'appuntamento cinefilo della settimana. Avete visto Thor Ragnarok? Mi auguro di sì perché questo video, vi avverto, contiene degli spoiler sul film. Visto che oggi vi propongo 10 easter eggs che sono riuscito a trovare all'interno della pellicola. Immigrant Song, dei Led Zeppelin, che fa da commento musicale a Thor Ragnarok, con la strofa in cui dice The hammer of the gods will drive our ships to the new lands, anticipa il finale del film. Difatti, alla fine della pellicola, Thor conduce gli asgardiani superstiti alla ricerca di una nuova terra ad abitare. Quando Thor si recca sulla terra, il suo martello prende le sembianze di un ombrello. Per riportare il martello al suo aspetto originale, il dio del tuono batte l'ombrello per terra per due volte. Questo è un riferimento alle prime storie a fumetti del personaggio, quando l'alter ego Donald Blake doveva battere a terra il suo bastone per trasformarsi in Thor. Nella rappresentazione teatrale cui Loki assiste mentre governa Asgard, hanno un cameo tra importanti attori, Sam Neill nei panni di Odino, Luke Hemsworth in quelli di Thor e Matt Damon in quelli di Loki. Il pianeta Sakaar, ovvero il luogo in cui Thor si batte con Hulk, esiste anche nei Marvel Comics. Nei fumetti, infatti, è il pianeta in cui Hulk viene esiliato, considerato troppo pericoloso per vivere sulla Terra, e in cui si batte con altri gladiatori in un lungo ciclo narrativo intitolato Planet Hulk. Quando Thor arriva sul pianeta Sakaar, Loki commenta il loro grado di parentela, sostenendo che il suo è solo un fratello adottivo. Il riferimento è alla battuta fatta da Thor nel primo Avengers sul fatto che Loki è stato adottato. Korg, uno dei gladiatori del pianeta Sakaar, è un personaggio preso direttamente dalle pagine dei fumetti di Hulk. In Planet Hulk, infatti, diventa un alleato del gigante di Giada e lo accompagna in battaglia anche quando Hulk decide di tornare sulla Terra per vendicarsi degli eroi che lo hanno esiliato. Su Sakaar svetta una torre come tributo ai più grandi gladiatori del pianeta. La cima è occupata da una statua di Hulk, ma ai lati possiamo vedere anche quelle di altri personaggi noti ai fan dei Marvel Comics, come per esempio quella di Beta Ray Bill, Swamp Thing e Ares. A un certo punto del film, Ela sostiene che molti dei cimeli nascosti nelle segrete di Asgard sono in realtà dei falsi. Tra di essi c'è il guanto dell'infinito, che dopo essere apparso nel primo film su Thor ha scatenato tante domande tra i fan, soprattutto dopo aver visto Thanos indossare il guanto alla fine di Avengers Age of Ultron. Beh, ora sappiamo la verità, il guanto custodito da Odino è un falso. Durante il film Bruce Banner e Valkyria hanno l'impressione di conoscersi, di fatti si conoscono, ma solo quando Banner diventa Hulk. Ecco, questa dinamica potrebbe far riferimento anche al fatto che Hulk e Valkyria hanno fatto gioco di squadra nei Marvel Comics durante una storia dei Defenders. I nuovi poteri elettrici che Thor usa nel finale del film erano stati anticipati da Avengers Age of Ultron, più precisamente nella visione che il personaggio ha dopo aver incontrato Scarlet Witch. Bene ragazzi, queste quindi sono 10 easter eggs che sono riuscito a trovare guardando Thor Ragnarok, ora voi con un commento fatemi sapere se ne siete riusciti a trovare altre. Detto questo vi auguro di passare un buon weekend e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per la visione!